ciao a tos ben trovata grazie un saluto carissimo anche a voi dove sarò mai la domanda non è difficile perché quando troviamo atos possiamo intuire facilmente come ci troviamo nel centro più grande nella concessionaria più grande d'europa siamo da luciano moto dove possiamo sbizzarrirci tra tantissimi brand molti dei quali sono proprio nostro in maniera un po ufficiale possiamo dire no assolutamente federica siamo concessionari ufficiali di una ventina di marchi praticamente due tre quattro ruote ricordo tutti che siamo anche ben forniti di tutto quello che riguarda il mondo dei motori non per forza due ruote quindi potete trovare una vasta gamma di quad per scampagnate anche in off road di microcar guidabili già a partire dai 14 anni a gasolio oppure anche elettrica abbiamo la nuovissima sciatena elettrica per cui visitate davvero al nostro sito per scoprire tutti i marchi che rappresentiamo ufficialmente e che per cui poi possiamo offrirvi appunto la manutenzione ufficiale rigorosamente ufficiale certo le due ruote ma poi c'è tutta questa filosofia bellissima del be different e qua possiamo davvero differenziarci e tutte le nostre esigenze sono in qualche modo soddisfatte anche dal punto di vista economico perché qui è famosissima l'operazione 50 l'operazione 50 per cento che ormai è centrata davvero sotto pelle permette a tutti voi di acquistare la moto dei vostri sogni spendendo solamente la metà potete pagarla o in unica soluzione quindi tramite bonifico bancario assegno con tanti a seconda degli importi o dilazionando il 50 per cento a due tre o anche quattro anni per cui poi manutenzione scontatissima il 50 per cento delle tabelle ufficiali sia per quanto riguarda tutti i ricambi quindi il materiale dei tagliandi gomme o pastiglie e la mano d'opera e alla fine poi del periodo scelto deciderete cosa fare della metà che manca potrete pagarla senza ulteriori costi o in unica soluzione o a rate comunque già stabilita al momento dell'acquisto iniziale oppure semplicemente restituircela senza più pagare e a questo punto riceverete un rimborso pari al 30 per cento di quello che avete speso almeno con un valore minimo garantito da scontare direttamente poi sull'acquisto di un'altra moto caspitato pare un sogno e invece è realtà ma oltre a tutto ciò andando anche sul sito i nostri amici possono divertirsi trovando tantissime promo sì certo il sito è sempre aggiornato in tempo reale per cui vedete tutte le moto che abbiamo in quel momento nel momento in cui lo visitate e trovate anche il bannerino appunto con le offerte del mese dove potete trovare poi tutte le offerte extra rispetto alla nostra operazione 50 per cento ad esempio qua siamo in Kawasaki e ci piace partire da qui perché è un po' il proprio il primo impatto quando entrate da Luciano Moto lì c'è l'ingresso e si entra in questo mondo di tecnologia di velocità di grinta di carattere a me piace la Tazzi anche a me Federica davvero perché Kawasaki ha nelle moto il suo fiore all'occhiello è da sempre costruttrice di mezzi decisamente più pesanti che viaggiano per mare, cielo, terra e appunto le moto rappresentano la differenza che Kawasaki ha rispetto a tutte le altre concorrenti qua siamo in mezzo alle due crossover di Kawasaki, la Versus 650 e la 1000 come dicevamo prima rispetto, cioè oltre alla nostra operazione 50 per cento ci sono poi le proposte che agevano nell'acquisto di Kawasaki a cui noi aderiamo completamente Kawasaki Versus 650, l'entry level e la 1000 per tutte e due avete il kit tourer incluso nel prezzo per cui coppia di valigie, paramani e protezione serbatoio tra le Naked anche qua ha sbaragliato la concorrenza la Z900 con i suoi 125 cavalli con un peso contenutissimo, una moto davvero molto molto facile e divertente considera che possiamo fare le rotonde con un filo di gas con la quarta dentro quindi anche nell'utilizzo cittadino è praticamente impossibile aver bisogno di una marcia inferiore alla quarta controllate anche qua il nostro sito perché poi le offerte sono davvero tantissime quindi non si limitano solo a questi tre modelli Che meravigliato, qua veramente sembra di entrare in passerella e passiamo di fronte a tantissime reginette italiane Bravissima Federica, è proprio così qua abbiamo per così dire ritagliato uno stand esclusivo che davvero dà l'idea della boutique dove potete trovare tutte le moto di MV Agusta in pronta consegna, nuove da immatricolare con i loro tre anni di garanzia visitate anche qua il nostro sito per scoprire le offerte che abbiamo anche con dei prezzi davvero scontatissimi su le ultime unità chilometri zero che abbiamo sempre nuove di fabbrica semplicemente immatricolate tutta la gamma al completo per cui la piattaforma a tre cilindri con la brutale, l'F3, la super veloce o la turismo veloce che è la crossover più leggera ad oggi presente sul mercato abbondantemente sotto i due quintali di peso con i suoi 110 cavalli quindi moto davvero molto molto facile leggera e maneggevole e divertentissima anche qua anche nel guidato è una moto davvero precisa quindi rispecchia in tutto e per tutto la filosofia di MV Agusta che vuole offrire un rapporto elevatissimo di peso potenza e per arrivare fino poi alle potentissime mille quattro cilindri che abbattono abbondantemente il muro dai 200 cavalli e la nostra operazione 50% qua si fa in tre per cui spendete soltanto la metà da cui possiamo scontare il vostro usato super valutandolo e ne riparliamo poi soltanto tra tre anni momento in cui deciderete appunto cosa cosa fare della metà che manca ma che meraviglia questo è davvero un mondo magico io ci sono entrata proprio a pieno raccontaci tutto quello che ti viene in mente di più interessante di più saliente di queste moto Fede Indian Motorcycles è la vera leggenda americana nata nel 1897 e poi ha consacrato appunto l'ingresso nelle due ruote motorizzate nel 1901 e fa davvero ancora oggi la differenza si è sempre differenziata negli anni per le partecipazioni e i risultati in ambito sportivo e per l'affidabilità che niente aveva in comune con il resto delle motociclette all'epoca e così ora quindi partiamo ora te qua sei su una bobber che rappresenta anche qua un po' la differenza che Indian dà al mondo custom quindi l'entry level della casa madre ha comunque un motore twin cam raffreddato d'acqua che fa un centinaio di cavalli montato in un telaio in alluminio rigorosamente in alluminio cosa che troviamo anche nelle grosse turistiche da 116 pollici di cilindrata per cui venite anche qua a provare a toccare con mano la differenza moto decisamente agili scattanti con un bel motore in un attimo siamo a 200 all'ora comunque su una custom laddove permesso dai limiti chiaramente del codice della strada nessuno vede nessuno dice nulla bravissima andiamo in pista se vogliamo raggiungere quella velocità e passando poi anche per FTR che è la moto derivata direttamente dal flat track disponibile sia con il cerchio anteriore da 19 e posteriore da 18 che la rendono davvero una tutto terreno da guidare anche un po' di traverso oppure con i 2.17 le misure classiche della moto sportiva per cui divertentissima anche su asfalto andiamo poi nelle grosse di motore ma piccole di dimensioni quindi come la Super Chief che qua abbiamo la Chief Sport che monta un motore da 116 pollici delle touring ma con una ciclistica decisamente molto molto più agile e abbiamo già raccolto tantissime prenotazioni della nuova Scout 2025 che arriverà adesso a giugno in salone anche qua affrettatevi ad accapparrarvela perché hanno stravolto nuovamente tutto quello che è legato all'idea che abbiamo di custom quindi un motore che è salito a 1.250 di cilindrata sempre affrettato d'acqua ma con delle sospensioni sportive derivate proprio da quella dell'FTR e i cavalli diventano 111 per cui anche qua davvero vogliamo fare la differenza ricordo a tutti che siamo concessionari esclusivi Piemonte, Liguria, Val d'Aosta veniteci a trovare e a provare la vostra Indian Atto sei dall'America torniamo in Italia Sì, Fede qua appunto nella parte che segue subito il padiglione dedicato a Kawasaki troviamo tutto quello che è il meglio proprio del panorama italiano riguardante le due ruote con tutta la gamma di tutti i marchi che riesce a pensare del top Made in Italy Aspetta, ne dico uno, Ducati, Aprilia, Benelli Tutto quello che fa parte davvero del Made in Italy è disponibile in pronta consegna acquistabile sempre con la nostra operazione 50% per cui anche qua con tantissime offerte e agevolazioni all'acquisto che riguardano soprattutto sempre la supervalutazione del vostro usato ci interessa sempre che sia in ottime condizioni per cui qua come puoi vedere lo standard delle nostre moto usate è rasente davvero la perfezione diamo proprio tantissima importanza supervalutando il vostro usato purché in ottime condizioni per cui fateci visita portando direttamente la vostra moto che vi potrà essere scalata o semplicemente dal totale all'antica diciamo così oppure mettendola direttamente in acconto sul 50% se è di valore superiore vi riconosciamo subito il pagamento immediato tramite bonifico è questo incredibile quadrando i conti assolutamente amici carissimi mi trovo in compagnia di Michael ciao a tutti e non è un caso che siamo scesi in questo reparto dedicato ai 50 e ai 125 perché è questo momento cruciale le scuole stanno terminando a questo punto bisogna capire se meritate un vero premio il vero premio è sicuramente qui perché abbiamo 50 e ai 125 che state vedendo da questa parte legati all'usato e alle occasioni e poi tutto un reparto dedicato al nuovo che cosa ci racconti di accattivante Michael? proprio per la fine delle scuole su tutto quello che rappresentiamo come ufficiali quindi ad esempio Brixton e Mash vi regaliamo 500 euro da dare ai vostri ragazzi da spendere al piano di sopra in abbigliamento e accessori quindi caschi, giacche tutto quello che può farvi comodo per iniziare ad andare in moto lo trovate al piano di sopra con un bellissimo sconto abbiamo anche fortissimi sconti su tutto quello che è Fantic quindi Ica Ballero si rinnova la promozione con i 400 euro di sconto da listino e i 400 euro in abbigliamento e accessori mentre su tutto quello che sono Motard ed Enduro due e quattro tempi 300 euro di vantaggi qui a vostra scelta quindi venite qui vediamo un attimino dove possono esservi più utili e a fine giornata vi vengono dati questi 300 euro abbiamo anche in pronta consegna e tutto quello che è la gamma TM quindi con il 125 più bello e più ricercato disponibile qui da Luciano Moto proprio in pronta consegna in 3-4 giorni lo ritirate 3-4 giorni quindi un sogno facilissimo meraviglioso abbiamo tutto anche per i più piccini quindi tutto quello che è Minimo Tard Mini Cross disponibili quelle in due giorni lavorativi venite il venerdì e il lunedì mattina vi venite a ritirare la moto per il vostro bambino per la vostra bambina che vogliono iniziare ad andare in moto quando diciamo che Luciano Moto sposa la filosofia del Be Different e propone una mobilità alternativa siamo seri e qui vediamo alcuni esempi abbiamo per esempio On Air Off Air oppure i Quadro Vehicles di cui adesso ci dovrete raccontare tutto esatto Fede proprio come concessionari esclusivi Super Soco abbiamo già disponibili anche in prova la gamma On Road e Off Road ricaricabili in un paio d'ore e con una velocità massima di 110 km orari con il vostro usato anche di valore pari a zero una di queste può essere disponibile a partire da 1990 euro con la nostra esclusiva operazione 50% grazie Michael e passiamo adesso invece alle 3-4 ruote Atos si Fede qua nel reparto scooter la fa veramente da padrono la gamma Cuder con il QV3 ha 3 ruote il QV4 che ha 4 ruote per cui un'aderenza raddoppiata sia all'anteriore che al posteriore guidabile con patente B può andare in qualsiasi strada anche tangenziale merita davvero una prova abbiamo tantissimi veicoli demo da farvi provare anche all'interno della nostra struttura se volete simulare qualche situazione senza il disturbo del traffico non vi resta altro che prenotarla direttamente al nostro sito o farci visita anche qua sempre acquistabili con la nostra operazione 50% per cui blindate il valore di qualsiasi vostro acquisto via Circonvalazione 49A proprio il confine tra la provincia di Cuneo e quella di Torino siamo molto più vicini a Torino in realtà che non a Cuneo dove siamo presenti con il nostro store in via Veceglio 6 dove potete trovare tutte le moto nuove che rappresentiamo come concessionari ufficiali meraviglioso quindi grazie delle tante cose che ci avete raccontato e che ci hanno emozionato venite qui per emozionarvi di persona e noi vi mandiamo un carissimo saluto da parte naturalmente di Luciano Moto da parte di Auto Occasioni di Atos di Michael e di Federica ciao